Ehm, tocca migliorare la tecnica, devo dire che alla fine dovremmo averla perfetta per... Ehm, perchè tanti ti attaccano insieme allo stesso, quindi non è che... Sì, manca la ghiandola, conviene rimanere nella zona centrale vicino, in modo che quando ci diamo un pugno a testa e la rompiamo, perchè sembra una cattata ma ti dà vita, capito cos'è? Ok, io so, mica alla fine mi ha preso, cazzo, tocca all'altro, eh vede, bastardo, tocca al sera Pugno Eh, bastardo Tocchio, ora Mollalo, conviene dargli solo uno e sforzate perchè altrimenti l'altro ti spara le palline Mentre sono quasi morto, cazzo Ok, si attiva Ok, liquido del merda Eh, sei morto tu Aia, mica anch'io però, ragazzi, quasi Ok, mi ha dato un po' di vita No, ok Ok, ho la sfera, cerchiamo di rimanere qui i centrali vicini, in modo che se le cose le diamo due pugni Aia, scusa Ho distratto un po' la situazione Vai Ok, l'ho distrutta Basta, mi ha ucciso Minca, mi ha ucciso alla fine, cazzo Grande, 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 che me ne vado Aspetta, dove sei? Eh, c'è lui, io, tieni, tieni, tieni Bastardi, cazzo No, io sono in terra Minca, mi hanno attaccato tutti e due insieme Più uno di quelli che mi ha esploso addosso Bello, l'ho ucciso il tipo Vai, attaccalo Eh, vabbè Ma che cazzo Minca Ok, ho la ghiandola Ok, distrutta Un po' di vita a testa Coppietta Eh, ciccio Minca, sono quasi morto Bi curo Vai che si è attaccato in terra Allontanati Fate attaccare l'altro Bastardo Vai che una cosa è andata Stiamo vicini Ghiandola, ghiandola L'attacco subito come esce Morta Ok, vita Via, via, via Che l'altro attacca Ok Aia Aia Eh, perché cazzo non scrivi Per po' Ah Occhio, eh Per polle Non so se la facciamo stanotte Però ci stiamo prendendo la mano Tutto le cose in terra In terra Aspetta Vai Subito là Questa Ok Bisogna iniziare a picchiarla Proprio Proprio che si può Nel'attaccare Due Tre Vai Tocca la ghiandola Bastardo Guarda la cazzo L'ha messa Ok Questa l'ho uccisa Grande Togliti Togliti Che ti attacca Ok Vicino A questi Tanto il primo che si ferma L'ho ammattia Eccolo qui Non l'ho ammattia Tutta C'è l'altro Aspettiamola da qui Aspetta Ah Se ce l'ho Fai grandissima Vai che lui è attaccato Grande Bellissima Questo Eh no Non è l'ultimo Ah c'è ancora lui Certo E appena inizia l'altro step Lo facciamo Ok Vita presa Anche la stracenda in terra Vai Che si è incastrato Eh si è da solo Ciccio Ok Ho tre Ho delle pietre Vai Grande Ok Prepariamoci Inizio all'ultimo Fai palline Trofeo Zecche Sanguissure E' morto Minca Non c'era un altro step E' proprio morto Filmato Questo l'ho salvo Minca Questo l'ho salvo Domani mi devo Come rientro Mi metto a fare i filmati C'è quello di ieri E' questo Anche se poi c'è Bisogna rifarlo A livello Evil Forse converrà A fare i filmati Però me li salvo Comunque Eh si Un bella Disinfettata A fare i filmati A fare i filmati